Andrea Guerrini. Alessandro Tadini. Bravo. La precisione. Sempre il meglio. Una grande vittoria sul Challenge Tour. Lui. Io naturalmente. Sì. Venite a vedere. Pallina Noitel. No. Se fanno casino la gente. Benissimo. Sì. Il pubblico fa un po' di casino. No. Vabbè. Però se l'ho messo bene. Capito? Cioè anche così lo metto dietro. Non c'è mica problema. Non si è mossa la palla no? Perché non si dica poi ruvo e volpi. Vabbè. Tanto lui è nel bunker. La. Visto? In asta. Eh. Ho fatto un bel colpo. Insomma. Poteva fare anche meglio. La grande. Il mio avversario è in panna e io vado bene. Sì. Sì. Però non ti puoi muovere mentre io vado bene. Sì. 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 Il signor scusante. Capito? Mi occupare. Non ammesso. Ombra vabbè vabbè. Grazie Andrea. Va beh dai. Questa l'ho persa dai. Grazie. Grazie.